Bella ragazzi, oggi sono qui perché di recente ho visto La vita è bella, che credo che sia il film più famoso italiano all'estero e diciamo che c'è un motivo, se ha vinto due o tre Oscar adesso non mi ricordo, diciamo che il voto per questo film è 10 e credo che come film italiano sia davvero quello migliore di sempre. Lo consiglio a chiunque, anche perché so che la nuova generazione magari questo tipo di film non l'ha visto perché dice oh è troppo vecchio oppure semplicemente è italiano perché ormai ai film italiani buttiamo solo merda addosso anche io in primis però ci sono davvero delle perle che noi italiani abbiamo fatto e La vita è bella è sicuramente una di quelle a occhi chiusi e quindi vi consiglio a tutti di guardarlo e se l'avete già visto riguardatevelo perché magari vi siete scordati quanto davvero è bello La vita è bella, bella ragazzi!